Ciao a tutti ragazzi, io sono Manky ed eccoci qui con un nuovo episodio di Vita in Campagna. Allora ragazzi, non siamo nel lotto di famiglia e come vedete siamo in compagnia. Tanto guardate che figo il nostro Parker con questi capelli, cioè lo amo, cioè meraviglioso. Comunque siamo qui con lei, le ho dato un piccolissimo makeover, sarebbe la sim dello scorso episodio sostanzialmente. Si chiama, aspettate che non ricordo, si chiama Rami, Rami Watson. Allora sappiamo che è sposata. Nonostante questo lei lo ha invitato in questo bar. Non siamo a Hanford, siamo a Glimmerbrook perché ho immaginato che comunque tra Hanford e Glimmerbrook ci siano massimo 30 minuti di strada in macchina. Perché non lo so, mi sa proprio di stessa zona della serie che tipo, se guardate tipo da qui, non so. Ho immaginato che magari da quelle parti ci potessero essere le casette di Glimmerbrook, cioè di Hanford, scusate. E quindi ho immaginato questo, sono venuti qui un po' lontani proprio perché lei è sposata. E quindi non vuole che in città si parli di lei. Secondo me, nello scorso episodio, allora abbiamo visto che il marito si era avvicinato a lui per parlargli. Ma secondo me non è che gli ha detto via da mia moglie eccetera. Hanno parlato così tanto per. Quindi lui in realtà ancora non sa che lei è sposata. Oddio, o magari in realtà lo sa. Magari ditemelo voi nei commenti. Secondo voi, Parker, sa che lei è sposata? Oppure no? Perché potrebbe essere un bricconcelletto anche in questo senso. Ad ogni modo lui è venuto qui e adesso flerteremo un po' con lei. Magari facciamo proprio flerta. E come vedete lei accetta tipo subito perché si è invaghita di Parker e lo abbiamo visto tranquillamente. Cioè l'abbiamo visto subito. Magari facciamo anche un'imitazione, cerchiamo un po' di conoscerla. Non so quale sia il suo obiettivo. Cioè se vuole una storia, una storia diciamo seria con Parker. O semplicemente vuole divertirsi all'insaputa del marito. A Parker però non interessa perché lui in realtà vuole soltanto divertirsi. È la notte degli uomini. Oddio. Ti voglio se adesso spunta il marito così a caso per la notte degli uomini. Ma non credo perché peraltro non c'è nessuno ragazzi. Cioè completamente nessuno. Se non appunto il barista. Allora io direi di venire qui. Magari facciamo ordine a una bevanda. E facciamo bevanda di gruppo. Le offriamo qualcosa da bere. Magari. Vediamo. Un tang e zing. Oppure un lama salato. Una brezza marina. No. Tang e zing. Ok. Prendiamo pure questo. E passiamo questa serata un po' così. Poi magari potremmo ritornare ad Anford insieme. Ovviamente però non nel centro cittadino. Lei svierà un po' questa cosa. Perché appunto non vuole... Non vuole farsi vedere da nessuno lì. Quindi vedremo un po' come andrà questa cosa. Però intanto vorrei ordinare qui da bere. Forse il fatto che non ci sia nessuno è positivo. Perché significa che non avremo problemi di alcun tipo. Lei è diventata subito ragazzi molto flertante. Adoro. Facciamo di nuovo flerta. E vediamo. Che altro possiamo fare? Schemi numeri di telefono? Direi di no. Facciamo un altro complimento per l'aspetto. Perché in realtà lui non è che vuole tanto conoscerla. Cioè più di tanto. Perché a lui non... Nel momento non gli interessa. Vi ho già spiegato che lui parla della doccia. Ma che cosa? Vabbè. Lui non vuole nessuna relazione seria. A causa anche di quello che è successo con la sua ex ragazza. Quindi non gli interessa più di tanto conoscerla. E volendo... Va bene così. Relativamente perché dico. Lei è una donna sposata a quanto pare. Però insomma. Siamo qui. Ormai non possiamo neanche più tirarci indietro. Confessiamo l'attrazione? Ma sì dai. Confessiamo pure l'attrazione. Ma è qui. Ma... Scusi. Ma in che senso? Cioè mi perdoni. Io volevo da bere. Vabbè. Non importa. Vediamo se... Potrebbe fare lui qualcosa da bere. Preparo una bevanda. Preparo una bevanda. Facciamo per tutti. Ma dai. Prendiamoci questa. Ok. Lei non so con chi stia parlando. Però ne approfittiamo appunto per farle da bere. E vediamo un po'. Ok. Perché comunque. Vi dicevo che lui era un mixologo. Quindi ci sta che si metta qui a farlo una bevanda. Approfittando del fatto che il tizio qui se ne sia andato. Quindi beviamo qui la eapa. Che sarebbe tipo una birra praticamente. Bevi. Ok. E continuiamo a parlare con lei. Primo bacio. Sapete che io lo farei? C'è magari prima entusiasmati per gli interessi. Lei è diventata tutta rossa peraltro. E... Dai. Farei il primo bacio a questo punto. Guardatela. È cotta. Insomma. Come abbiassimarla ragazzi. Cioè. Ti trovi un tipo del genere. Ad Hanford. Così all'improvviso. Cioè. Tutte devono cadere ai piedi. Cioè. Gli cadono ai piedi. Perché è meraviglioso questo ragazzo. E quindi non l'abbiasimo affatto. Assolutamente. E adesso arriva il primo bacio. Adoro. Ragazzi. Cioè. Guardate. E qui c'è il vecchietto. Tipo. Ok. Fingerò di non aver visto nulla. Ok. Facciamo questa foto così. Perfetto. Eccolo qua. Guardatela. Cioè. Lei non ha ragazzi alcun rimorso per il marito. Cioè. Totalmente. Zero totale. Adoro. Il drama così servito su un piatto d'argento ragazzi. Cioè. Non poteva andare meglio di così. Allora. Appena finisci questa. Magari. Le proponiamo di tornarcene a casa. In realtà. Potremmo anche giocare qui a ping pong. Però. No. Dai. Torniamo direttamente a casa. Lui ha fame. Però. Io lascerei perdere. O. In realtà. Potremmo mangiare qualcosa prima di andare. Lei è arrabbiata perché? Non ho idea del perché lei fosse arrabbiata ragazzi. Cioè. Proprio zero totale. Prendiamo un piatto di carne. Qui. E formaggio. Invita a restare per la notte. Ecco. Facciamo così. Ti va di andare a casa mia dopo? Facciamo anche una posa sexy. Che bricconceletti anche lui. Però è diventato rosso ragazzi. Adoro. Facciamo anche magari poi una domanda spinta. Vediamo. Passeremo tutti insieme? Mi sembra un'ottima idea. Ma guardatelo. Ok. Vediamo. Che altro possiamo fare? Questa cosa non l'è piaciuta. Poi è una domanda spinta. E allora posso scusarmi? O recuperare tipo in estremis? Vediamo. Ok. Confessa l'attrazione. Chiede un appuntamento. Stringi. No. Immergiti in cerca di brividi. Mi sa che è per il cassonetto. Quindi io non lo farei perché è disgustosa questa cosa. L'ho fatto soltanto una volta con Noelle ragazzi. Quindi direi che non lo farò mai più. Però ok. Ok ragazzi. Siamo arrivati e stavo pensando di provare, se è possibile ovviamente, il fichi fichi qui dentro. Perché non possiamo? Ok. Non possiamo mettere un animale nel capanno. Quindi chiamiamo Burrita. Facciamo che intanto veniamo qui insieme. Ah. Peraltro ragazzi. Sono cresciuti i pulcini. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo qui Mela. Dovrebbe esserci. Forse era grilletta l'altro pulcino. Mi sa di sì. Quindi li abbiamo qui tutti e due cresciuti. entrambi bianchi. Adoro questa cosa. Però vedo che qui hanno fame. Quindi facciamo una cosa. Io spargerei anche il mangime a che siamo qui. Lei sta anche arrivando. Vedo che ha sonno. Però vorrei assolutamente provare questa nuova interazione. Diamo un po' questo nuovo fichi fichi. Ok. Vieni qui. Spargiamo questo mangime. E chiamiamo Burrita. Perfetto. Così Burrita esce fuori. E noi possiamo fare fichi fichi. Ecco qua. Fai fichi fichi. con Rami. Oh mio Dio. Ragazzi. Io veramente. Cioè drammi. Non me li aspettavo drammi in questa partita. Però adoro. Bricconcelletti che non siete altro. Ok. Andate pure. Divertitevi. Lei è stordita. Perché ha pure bevuto. Lui pure. Quindi a posto. Siamo messi benissimo. Guardatela. Cioè. Lei è proprio spedita ragazzi. Cioè. Non ha ripeto. Nessun rimorso. Cioè. Proprio zero totale. Adoro. Adoro. Guarda. Oh mio Dio. Vabbè. Lui è già sparito lì dentro. Però ok. Ma guardate. Oh mio Dio. Ok. La povera Burrita è stata cacciata fuori per questo. Mi dispiace un sacco. Però. Non possiamo farci nulla. Abbiamo qui dei bisogni. In effetti. Potevamo andare qui. Nel letto. Però ripeto. Volevo provare questa. Questa nuova interazione. Del fichi fichi. Nel tipo granaio. Nel capanno. E quindi. Va bene così. Burrita. Ci sta giudicando. Ok. Tranquilla. È tutto normale Burrita. Non preoccuparti. Oh mio Dio. Ma guardate. No. Ma io devo fare una foto. Ma ragazzi. Ma. Sono sconvolta. No. Anzi. Voglio fare una foto qui con Burrita che ci giudica. Ok. Oddio. Ma guardate qui. No. Cioè. Sono sconvolta. Ok. Escono. Sì. Forza. Vi è liberato. Guardate. Li sono esausti. Ok. Che fate adesso? Bacia. Ok. Però. Mi sa che. Lei adesso se ne andrà a casa. Quindi facciamo manda a casa. Perché comunque. Lei. Forse non vuole neanche fare insospettire il marito. Quindi se ne va. Voglio vedere se stanno bene i nostri animaletti. Ok. Qui stanno dormendo. Quindi perfetto. Non ci sono neanche le uova. Stanno tutti molto bene. Quindi. Lui. Lo mando pure a dormire. Perfetto. Ragazzi. Si è svegliato lui. Con una chiamata. Anzi. Con un messaggio. Di Rami. Mi ha chiesto. Ehi. Bellissimo. Mi puoi. Mi puoi chiamare? Ok. Lui. La chiamerà. Anche se in realtà non vuole farlo. Quindi. Ah. Infatti non lo sta facendo. Che mi sa che ha ignorato la chiamata. Vai pure in bagno tranquillamente. E poi ti faccio anche mangiare. Ah. Mi sono dimenticata di mettere questi in frigo. Mettiamoli ora. Sperando che rimangano in frigo tranquillamente. Vedo che c'è un temporale. E in realtà io volevo uscire. Quindi speriamo che si calmi. Ok. Forse si sta calmando. Perfetto. Perché abbiamo qui queste cose da fare. Quindi dobbiamo darci una mossa. Intanto magari ti prendi qui gli avanzi. Benissimo. Ma ti sei lavato le mani? Aspetta. Forse non si è neanche lavato le mani. Usa lo sciacquone per favore. Lavati le mani e poi mangi. Per favore. Un minimo di decenza. Parker. Per favore. Lui. Ragazzi. Booker dorme ovunque. Ragazzi. Si è fissata. Lui ovviamente diranno grazie. Perché non ha intenzione di rivederla. Non gli interessa. Però. Aiuto. Ho paura che questa cosa non andrà molto bene. Quindi vedremo. Vedremo come va. Poi dobbiamo anche chiamare il corriere alimentare. Quindi vediamo se. Sempre se l'interazione funziona. E vediamo di chiamare il corriere. Così chiediamo cos'erano dei suoi sogni. Quindi faremo anche questo. Perfetto. Dove è andato? Ok. Ragazzi. Io però adoro Parker. Cioè vedere Parker qui che si occupa dei suoi animali. Vedo che qui dovremmo anche occuparti. Occuparci del nostro giardino. E faremo sicuramente anche questo. Però non mi sembra che ci sia nulla di urgente. Quindi per il momento lasciamo stare. Però potremmo raccogliere un po' di cose. Vedo che qui anche i frutti abnormi stanno crescendo. Vedo che qui ce ne sono quattro. Anche qui ce ne sono quattro. Anche qui. Qui però ce ne sono soltanto due. Quindi è possibile che questi siano più grandi rispetto agli altri. Adoro. Adoro. Non vedo l'ora di vederli più cresciuti. Benissimo. Quando è la prossima fiera? Aspettate. Ok. E qui esterebbe la fiera dei polli. Bene. Quindi dobbiamo instaurare un buon legame con almeno uno dei nostri polli. Così lo portiamo alla fiera. Io sarei tentata di portare Wright. Non lo so. Perché mi ispire pure tutto nero. Non lo so. Mi piace. Quindi mi sa che faremo in questo modo. Ok. Pulisci pure questo capanno. Perfetto. E poi andiamo al laghetto. Sempre se quello è considerato un laghetto. Credo di sì però. Non lo so. E proviamo a pescare qualcosa. Quindi vediamo se riusciamo. Ragazzi di nuovo. Rami si sta chiedendo se vuoi andare a casa sua. Ma Rami. Ma sei impazzita. Basta. Non cercarci più. Ragazzi ho paura. Peraltro voleva invitarlo a casa sua. Cioè con quale coraggio. Forse il marito non era in casa. Quindi lei voleva approfittare di questa situazione. Ma non mi sembra proprio il caso. Oh. Lavina. Co. Ragazzi. Ho saputo della tua amicizia con Rami Watson. È piuttosto in gamba. Ragazzi. Secondo me Lavina sa qualcosa. Il sindaco ci sta tenendo l'occhio. Oddio. Cioè. Parker tu arrivi qui in una nuova città e crei già problemi al sindaco. Io sono senza parole. Però guardatelo. Io lo adoro. Può creare tutti i problemi che vuole. Ma io lo adorerò comunque. Va bene. Vediamo se appunto pescando un pesce qui se mi prende qua. Mi spunta questa cosa. Ce l'ha fatta. Sì. Ottimo. Credo sia un persicotrota. Può essere. Ok. Basta. Basta pescare. Abbiamo fatto. Benissimo. Andiamo un po'. Persicotrota. Sì. Perfetto. Adesso torniamo nel lotto di casa. Ma. Oddio ragazzi. Mi sembrava una persona ed ero tipo. Ma chi è questo? Invece sono il nostro bugger. Sono senza parole. Allora. Ma peraltro voglio vedere una cosa. Se abbiamo abbastanza uova. No. Non ne abbiamo proprio per niente abbastanza. Perché le dovremmo dare. Ma questa perché è diversa? È da cova questa. Quindi cioè io posso metterla qui. Da cova. Tempo di schiusa. Mi nascerà un pulcino. Adoro. Ok. Allora noi abbiamo quattro uova. Ne dovevamo prendere se non sbaglio. Dodici. Può essere. Ecco qua. Consegna una dozzina di uova bianche al sim proprietario del negozio di alimentari. Poi consegna una porzione di cibo al sim proprietario di negozio di alimentari. E porta i saluti e i funghi del sim. Ah è vero. Dobbiamo fare anche questa cosa. Ed è tornato il temporale. Non ci voleva. Guardate lui come corre. Torna dentro. Ok. Perfetto. Ordiniamo qui la consegna. Allora. Ordino una consegna di alimentari. Io quasi quasi prenderei le uova. Proprio vorrei un po' citare il sistema. E prendere le uova. Se posso. Vorrei anche prendere il volume di cucina. Aspetta. Lui non mi ricordo che livello era. Vabbè. Prendiamo questo qua livello 1 per sicurezza. Ok. Vediamo se troviamo delle uova. Allora. Latte alla fragola. Ma sì. Prenditi pure il latte alla fragola. Uova. Uova. Magari anche il pane al latte. Perfetto. No. Io uova non ne vedo. Prenderei anche il platano. Ma sì. Magari prendiamone due. Ok. Ecco qua le uova. Prendiamone un po'. Facciamo magari. Sì. 10 uova. Perché tanto già ne abbiamo abbastanza. Ok. Vediamo se arriva il tizio. Anche perché c'è un temporale. Quindi onestamente non so se arriverà. Tu fai una cosa. Lavati pure i denti. Ok. Qui stanno entrando tutti nel capanno, pollaio, eccetera. Ok. Magari giochiamo un po' con Booger. Facciamo l'Oda. Facciamo gioca. Perfetto. Arriva? Vediamo se arriva. Secondo me non arriva, ragazzi. In caso mi avete detto che lo posso trovare comunque nella zona commerciale. Quindi magari poi andremo lì nella speranza di trovarlo. Perché vedo che non arriva. Ma è possibile che sia per il temporale. Oddio. Ma. Adoro. Cosa ci ha dato? 195. Vendiamolo subito. Ah no. Devo venderlo dalla modalità compra costruisci. Va bene. Allora poi lo farò. Sarei tentata di andare adesso. Perché vedo che la consegna non arriverà, ragazzi. Ragazzi. Niente. C'è un temporale anche qui. E sto vedendo che qui c'è il marito di Rami. Ragazzi. Meglio evitarlo come la peste. Perché non vogliamo troppi problemi. Allora. Vorrei. Ma non dirmi che è chiuso. Oddio. Speriamo che non sia chiuso per via del temporale. Perché a me serve qui. Ok. Diamole subito. Ecco qua. Porta i saluti del sorvegliante di creature. Poi le diamo anche la porzione. Porta i saluti. Ah. Ma mi manca il fungo affascinante. Ma me lo aveva dato. O il fungo salutare. No. Verdeggiante. Ma dove è finito quello affascinante? Vabbè. Niente. Non possiamo darle il regalo. Però mi dispiace. Mi dispiace un sacco. Vabbè. Non possiamo farlo. Voglio vedere se posso. Ecco qua. Consegno una porzione di cibo. Le diamo un po' di pollo alla brasa. Benissimo. Così completiamo qui qualche cosina. Bene. Vediamo. I suoi saluti? Tutto qui? Beh. Non lo definirei un tradimento vero e proprio. Ma è un po' una delusione. Oddio. Mi dispiace. Magari il regalo le sarebbe anche piaciuto. Che tristezza. Vabbè. Purtroppo è andata così. Ok. La porzione le è piaciuta? Sì. Benissimo. Però non dice nulla. Adesso mi mancano le uova. Io però queste uova ancora non ce le ho. Quindi per il momento aspettiamo. Vediamo. Ragazzi. C'è la signora Crumplebottom. Voglio assolutamente parlarle. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Amichevole. Facciamo una presentazione proprio divertente. Voglio vedere se lo prenderà a borsate. Praticamente questo è un personaggio che c'era in The Sims 2. Anche in The Sims 3. In The Sims 2 era proprio anziana. Proprio come adesso. E prendeva a borsate i sim flirtanti. Tipo una cosa del genere. Faceva molto ridere. Voglio vedere se lo fa anche con lui. Sapete cosa? Secondo me lui per scherzare. Lei farà tipo un complimento così proprio romantico. Ma in realtà ovviamente non è che lui sta flirtando con lei. La sta un po' prendendo in giro. Quindi facciamo magari complimenti all'aspetto. Signora ma è meravigliosa. Ha un aspetto incantevole. Voglio vedere se lo prende a borsate. Aiuto. Guardala. Tipo ma come ti permetti giovanotto? Oddio. Abbi un minimo di decenza. Oddio. Mi sa che lo sta venendo a prendere a borsate ragazzi. Guardala. Eccola. No 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 giovanotto. Non si fa così. Guardate. È tremenda. È tremenda. Già pronta la sua borsa. No vabbè. Tipo ai. Oddio. Guardate. Ma che ridere. Ma guardate come si prende la carica. Lui tipo. Forse. Mi dispiace. Stavo solo scherzando signora. Oddio. Oddio ma guardate. Lo ha distrutto. No vabbè. Ragazzi che ridere. Che ridere. Ecco qua. Ed è arrabbiato. Che crampo il botta. Cosa c'è in quella borsetta. Qualunque cosa sia. Mi ha fatto male. Io sono senza parole ragazzi. Mi fa morire. Davvero. Mi fa morire. Ok. Però abbiamo dei sentimenti con le forze. Sono le prime impressioni. Vediamo un po'. Ok. Lei. Prima che noi. Facessimo insomma questa figuraccia. Pensava che lui fosse divertente. Adesso invece. Ci odia. Ottimo. Va bene. Vediamo se troviamo. Oh. Qui c'è una tizia. Vieni qui a flirtare con lei. Facciamo una presentazione amichevole. Dai. Basta parlare con lei. Anche perché credo che lui adesso abbia un po' paura di questa signora. Quindi veniamo qui e parliamo con questa ragazza. Ma salve. No. Però magari non vicino a lei. Ho un po' paura sai. Vabbè. Presentiamoci lo stesso. Sperando che non ci prenda di nuovo a borsate. Ma non credo. Proviamo a fare magari un semplice flerta. Ok. Vediamo un po' che cosa dice. Ok. Adesso sembra innocua però la signora Crumplebottom. Ok. E lei ovviamente è lusingata di ricevere le attenzioni di Parker. Ma basta di nuovo. Ragazzi. Guardatela. Di nuovo. Lo sta prendendo a borsate. Ma perché? Oddio. Fatti insultare. No. Vabbè. Ok. Quindi le dà fastidio anche se flirtiamo con gli altri. Va bene. Buono a sapersi. Però non posso neanche chiederle il numero a questa. Discutire i cambi del quartiere? No. Vediamo se posso chiederle il numero almeno. Così lui potrebbe chiamarla per uscire qualche volta. Aspetta. No. Però non voglio essere vicino alla signora Crumplebottom. Perché mi prenderà di nuovo a colpi di borsa. Quindi evitiamo. Ok. Oh mio Dio. Qua si è storta tutta. Che succede? Vorrei chiederle il numero una volta per tutte. Quindi scambio i numeri di telefono. Non abbiamo incontrato il ragazzo delle consegne purtroppo. No. Infatti qui non lo vedo. Possiamo vedere se si trova. Ok. Qui le abbiamo dato il numero. Lei l'ha accettato? Sì. Lo ha accettato. Però appunto dicevo. Non abbiamo trovato il ragazzo delle consegne. Oh. Ci sono quattro uova. Ok. Allora le raccolgo subito. Raccogli le uova. Basta che non raccoglie questa. Perché è da cova. Ok. Tra due giorni avremo un pulcino. Adoro. Ok. Prima passa l'aspirapolo. Ah no. Prima prende le uova. Va bene. Ok. Che ha raccolto tutto. Sì. Ah. Abbiamo un'altra uova da cova. Adoro. Vieni qui a passare l'aspirapolvere. Intanto mettiamo l'uovo qui. Vediamo un po'. Dovrebbe essere questa. Ok. Mettiamola qui. Adoro. Che cosa carina ragazzi. Benissimo. Non vedo l'ora che nascano questi pulcini. Bene. Passa pure l'aspirapolvere. E direi che possiamo fermarci qui con questo episodio. Lui sta facendo l'occhiolino alla pianta. Guardatelo. Ok. E va bene. Dai. Direi che possiamo fermarci qui con questo episodio. Nel prossimo appunto vedrò di fare questa cosa del corriere. E di raggiungere una quota di uova che mi permette. Ah. Ma ne ho sette. Aspetta un attimo. Ma sono quelle che avevo in frigo? Aspetta un secondo. Sì. Ok. Sono quelle che avevo in frigo. Quindi me ne mancano poche. Va bene. Allora. Cercherò di raggiungere quella quota delle uova. Così possiamo andare avanti con le commissioni. Finirne qui qualcuna. E magari iniziarne delle altre. Perché mi divertono un sacco. Solo che se non funzionano le cose. Io non so come devo fare. Quindi vabbè. Comunque per il momento direi che possiamo fermarci qui con questo episodio. Io vi mando un bacio enorme. Vi ricordo di mettere mi piace. Di commentare. Di iscrivervi al canale. Se questo video vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.